Buongiorno a tutti e bentornati a Valgrande. Non ho cambiato e non ho intenzione di cambiare professione, anzi vi voglio proprio svelare che questa mia attività di accoglienza, di alloggio, di ristorazione, proprio con il passare degli anni ancora mi appassiona molto, ma mi appassiona molto anche la diversità dei lavori che noi qui a Valgrande, come tutti gli agriturismi, facciamo durante l'arco della nostra giornata. Adesso infatti sto selezionando una cassetta di pere William, nello specifico, per scegliere il diverso grado di maturazione, perché così come facevano le nostre mamme, per utilizzare tutta una cassa di prodotto, li selezionavano per scegliere i primi frutti maturi da utilizzare e via via poter vedere quali sono quelli che si prestano maggiormente alle nostre preparazioni. Io infatti queste pere le propongo ai miei ospiti alla mattina nella colazione, assieme al latte freddo, assieme al nostro caffè, assieme alle nostre focacce. Però le pere in questa stagione si possono utilizzare anche durante il pasto. Io le propongo in abbinata alla selezione di formaggi veneti, oppure anche propongo un risotto con il grana padano e i cubetti di pera prima saltate nella padella. Però nei nostri menù di questo periodo si possono trovare anche altri frutti della stagione, come i fichi che serviamo nel tagliere dei nostri salumi, oppure le mele, oppure possiamo trovare i pomodorini che vengono dal nostro orto. Se siete curiosi di assaggiare i nostri piatti vi invito a prenotare il vostro tavolo. Potete anche cogliere l'occasione per fare com'è una passeggiata in campagna e magari raccogliere direttamente dall'orto la frutta e la verdura. Vi invito a continuare a seguirci attraverso le pagine dei nostri social o attraverso le pagine del nostro sito. Vi aspetto per provare anche queste esperienze. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!